3B Office ha origine dall'intuito dei miei genitori che da piccoli cartolai hanno avuto la lungimiranza di capire che era l'ora di fare un salto di qualità. 3B Office nasce come azienda di produzione, di commercio e di distribuzione di prodotti per ufficio, scuole ed enti. Negli ultimi anni 3B Office si sta evolvendo alle richieste del mercato che sta spostando il proprio core business nel mondo dei servizi che vanno oltre alla vendita del prodotto. 3B Office è l'unico fornitore di tutto ciò che serve nel proprio luogo di lavoro. 3B Office SRL dispone di oltre 2.000 metri quadrati di magazzino, all'interno del quale sono inseriti oltre 10.000 prodotti per ufficio delle migliori marche in pronta consegna e altri 10.000 in dropshipping su magazzini esterni. Ogni ordine viene consegnato direttamente alla scrivania nel giorno stesso o nella mattina successiva. Tutti gli articoli proposti dalla 3B Office SRL soddisfano le esigenze dei clienti che ricercano oltre alla qualità assoluta il risparmio e un'ampia scelta. Il catalogo essenziale di 3B Office con 184 pagine propone oltre 4.000 referenze disponibili in pronta consegna. Pulizia ed igiene, catering, arredamento, complementi d'arredo, archiviazione, cancelleria, timbri, organizzazione ufficio, scrittura e correzione, articoli da regalo, disegni e didattica, blocchi e quaderni, modulistica, cartap, etichette, ferramenta, macchine per ufficio, informatica. Presso la sede di via Piano Dardine è presente anche un ufficio gara specializzato per formulare offerte articolate anche sul MEPA. Gli agenti di vendita e il personale interno sono costantemente aggiornati, formati attraverso corsi e workshop. Grande spazio dedicato agli arredi e alla progettazione degli spazi con un software specializzato. 500 metri quadri di esposizione nello showroom dove poter scegliere e toccare con mano la qualità degli arredi e visionare le migliori collezioni di grandi marchi internazionali e del made in Italy. 3B Office SRL dispone anche di un'offerta globale e su misura per proteggere il lavoratore dalla testa ai piedi. Grazie.